Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotico Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico anche questa puntatona dal colore di Retrocomputing oggi parleremo di Sinclair ZX Spectrum contro Commodore 16 attenzione gente che io del Sinclair ZX ho già parlato quanto del Commodore 16 in questo podcast esploreremo due libri della Jackson il cui link per scaricarli gratuitamente lo trovate in descrizione questi due test ci aiuteranno a valutare questa retrospettiva tecnica storica Sottotitolo per i non capenti era vero che Commodore 16 era l'anti ZX Spectrum oppure il Commodore 16 era la scusa per rifiare a qualcuno il chip dead che la MOS Technology aveva fatto andiamo con ordine tuffiamoci in questa retrospettiva storica e tecnica andando ad esplorare prima di tutto il testo Commodore 16 per te Commodore 16 per te eccolo qui il test del gruppo editoriale Jackson il link per scaricare questo test lo trovate in descrizione ringraziamo anche il gruppo editoriale Jackson che ha messo online su Archive un ballino di libri in pdf in italiano di informatica per cui per tutti gli appassionati di informatica ed anche e soprattutto di retrocomputing è possibile andare a scaricare queste perle se uno è interessato dunque il link per il Commodore 16 per te lo trovate in descrizione e cosa vi posso dire? allora la vulgata generale vuole il che praticamente il Commodore 16 quello che vedete qui era nero e era praticamente pensato per essere un anti Sinclair perché la Sinclair vendeva praticamente parecchio in America aveva un prezzo molto aggressivo e a dire della Commodore praticamente toglieva quote di mercato è proprio così? oppure c'è un'altra storia ed è che magari alla MOS Technology avevano fatto il chip TED e a qualche d'uno dovevano rifilare e quindi pensarono di schioccarlo dentro il Commodore 16 per cercare praticamente di rifilarlo all'utente dicendo che poi questa macchina serviva per bloccare il Commodore Sinclair J3 Spectrum ecco per vedere questa tesi è meglio praticamente andiamo a sfogliare questo testo da cui ovviamente trarremo informazioni importanti allora andiamo a vedere questo testo praticamente stampato nel lontanissimo febbraio 1985 sommario capitolo 0 i preliminari capitolo 1 la tastiera capitolo 2 il video 3 la calcolatrice 4 il programma capitolo 5 gestione del programma capitolo 6 strutture del programma capitolo 7 la grafica capitolo 8 animazione 9 il suono 10 altre istruzioni basic operazioni avanzate lungi appendici del basic introduzioni variabili appendice B codici e numeri del calcolatore utilizzo della memoria valori delle note messaggi di errori funzioni matematiche derivate conversione decimale esadecimale e binario allora andiamo a vedere va bene di che cosa parliamo tenete presente che il Commodore 16 praticamente era un calcolatore della famiglia in teoria il target del Commodore erano bimbetti al di sotto praticamente dei 12 anni intorno ai 12 8 12 13 sicuramente meno dei 14 che erano già più smaliziati e praticamente guardavano al Commodore 64 il biscottone che c'era più giochi e quindi un target di utenza molto piccola interessata prevalentemente praticamente a un computer semplice da utilizzare per caricare i giochi che costasse poco e poi successivamente eventualmente comprare un computer un po' più potente era proprio così allora come si collega il calcolatore al video con il registratore eccolo qua qui si spiegava praticamente cosa c'era lo spinotteria la spinotteria il pulsante collegato all'alimentatore esterno quindi della potenza elettrica il pulsante di accensione il pitfall di reset i due praticamente uscite per il joystick 1 e 2 quindi era una macchina decisamente ludica dato che appunto c'aveva due joystick e il mouse non ce l'aveva era pensato praticamente come il Commodore VIC-20 e come il Commodore 64 per fare dei giochi il problema di questa macchina è che non c'aveva RAM proprio come il VIC-20 quindi non c'aveva RAM a sufficienza per fare i giochi inoltre era pure incompatibile con i giochi del VIC-20 e non poteva caricare nemmeno i giochi del Commodore 64 perchè oltre che circuiteria mi mancava anche la memoria poi cosa c'era qui c'era praticamente varie uscite questa è praticamente l'uscita per il video poi c'era una spinotteria da mettere praticamente eventualmente dei drive esterni infatti non serviva una nuova o una stampante va bene e lo spinotteria dell'espansione monitor, registratore, alimentatore e alimentatore di letto scritto a macchina è molto parecchio con interlinea piuttosto appicciata considerando che queste dovevano leggere bimbetti da 8 anni 10, 12, 13 quindi non è proprio molto friendly poi si parla del dataset si spiegava praticamente come utilizzare e poi vediamo lo sguardo alla tastiera sguardo d'insieme cosa c'era tasto shift cbm logo e control tanti discorsi tanti discorsi tanti discorsi tanti discorsi e poi disegni e poche fotografie ecco figuriamoci se dei bimbetti di 8, 9, 10 anni si prima mette a leggere tutta questa roba quindi c'era già qualche cosa che non andava in questo test ok la tastiera non la si doveva spiegare con una serie di discorsi o sì a vanvera ma magari con un disegno e poi spiegate tasto per tasto a cosa serviva perché così i bimbetti non avevano neanche modo di riconoscere quali erano i tasti quindi praticamente non è che fosse fatto proprio molto bene andiamo a parte del video colori degli effetti speciali colori del neri c'era 16 colori nero, bianco, rosso ciano, viola verde, blu, giallo arancione, marrone giallo giallo, verde, rosa verde, blu, blu, chiaro blu, scuro, verde, chiaro vabbè calcolatrice come utilizzare come calcolatrice e qui si fa anche qui tanti discorsi tanti discorsi tanti discorsi quanto basta metterci una print con le operazioni da fare ma il programma cos'è un programma qui si pretende di spiegare cos'è un programma anche qui tanti discorsi tutto un appicciume di parole ma chi lo leggeva questo libro ma c'era qualcosa evidentemente che non andava negli autori che hanno scritto questo libro non avevano presente il target di utenza di chi poteva comprare un libro simile e che poi praticamente c'era già il manuale del Commodore BX16 allora ci ho fatto un podcast su questo gestione del programma ecco qui si parla un po' di gestione del programma come gestire ma si ritorna sempre via al discorso tanti discorsi e poi immagini pochi disegni che invece avrebbero aiutato i piccoli lettori strutture del programma IFDAN che aveva la ELSE piccoli esempi commentati ma c'è che troppi discorsi e magari non si introduce nemmeno il diagramma di flusso e quindi non va bene perché praticamente la programmazione è principalmente diagrammi di flusso e il listato ne è sostanzialmente la diciamo versione in basic declinata diciamo di quello che già accade in un diagramma di flusso qui i diagrammi di flusso se non se ne vede nemmeno uno comunque la cosa che a me mi interessava di questo testo che è scritto veramente copiadi è la parte della grafica ecco andiamo a vedere la parte della grafica che si parla praticamente dei sistemi coordinate delle modalità grafiche le istruzioni grafiche punte e rette cinque referenze l'istruzione paint scrivere in modo chiaro funzioni grafiche va bene subroutine di stampa riepilogo la parte in fondo l'animazione esempio di movimento il suono qui c'erano i valori delle note con le relative ottave numerate e poi praticamente c'era il comando sound che permetteva di fare quello che si doveva fare altre istruzioni basic che vengono date in particolar modo il trattamento delle stringhe vabbè non c'è nemmeno il grassetto per separare le varie operazioni qui funzioni chr dollar funzioni lei è tutto una pc come dirò ma veramente fatto veramente male co piedi proprio co piedi allora operazioni avanzate io qui vado veloce perché la parte che mi interessa diciamo visto che non è qui ma è quasi un fondo alle appendici ora poi ci arriveremo comunque un modo per scorrere il libro ecco finalmente si vede si annusa un diagramma di flusso di cui non si è andata nemmeno particolari concezioni va bene un altro diagramma di flusso o in meno se è successo sono miracolato poi un listato tutta una picciume di roba basic 3.5 interpretato quindi è molto lento io qui vado veloce ora fra un po' arriveremo praticamente alla parte degli appendici che è quello che a me mi interessa di più per poter andare a discutere del 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 nostro tema ossia se il comodo il 16 qui viene spiegato il resto delle varie comandi finalmente poi più nemmeno questo già si trovava sul manuale utente quindi non si appisce cosa perché comprare questo libro ma nel manuale utente c'era già tutto e era anche un po' più chiaro questa è la comunque in modo più scritto più con disegni in modo più più amichevole codici del calcolatore corrispondenti caratteri e codici asci caratteri speciali semi grafici tokens anche qui elenco dei tokens codici dove cavolo hanno messi parole riservate codici di controllo un po' di asci allora la macchina praticamente questa c'aveva ecco utilizzo della memoria eccoci qua c'aveva praticamente qui si vede che c'aveva veramente pochissima memoria perché erano questi espressi in byte 4097 byte e dividete per 1024 viene 4k più o meno quindi un 4k non ci si faceva una mazza quindi c'era il programma basic variabili variabili croci quindi c'era 4k per il resto praticamente il commodore 16 aveva praticamente il basic che girava in rom quindi cosa vi posso dire allora era incompatibile questa macchina con il vic 20 vic 20 se l'hai già visto ci ho fatto il podcast sopra era praticamente niente più di meno che una playstation vagamente in modo appena accennato programmabile tra la 5k i videogiochi erano scadenti e non era possibile farci niente di produttività personale quindi stampanti e drive non aveva certo con il commodore vic 20 il commodore 16 aveva 4k quindi un k in meno del vic 20 come si vede qui in più era incompatibile con il commodore vic 20 perché non poteva caricare i videogiochi del commodore vic 20 quindi figuriamoci quelli del commodore 64 il commodore 64 era compatibile con vic 20 ora la domanda è perché alla commodore hanno detto che il commodore 16 sarebbe stato quello che avrebbe potuto arginare il sinclair zx spectrum offrendo una macchina con appena 4k di ram e per di più incompatibile con commodore vic 20 era una macchina che praticamente se si dava dei bimbetti di 8 9 10 11 12 anni con 4k non ci facevano nulla però magari potevano essere interessati ai videogiochi del commodore vic 20 da caricare che erano scadenti ma comunque praticamente potevano essere caricati la macchina costava veramente poco e quindi i genitori la davano tanto per giocare ma era incompatibile non ci potevano fare ricerche nelle scuole la programmazione praticamente era bella che era perché con 4k ci si faceva la mazza e quindi di conseguenza c'è da chiedersi ma il commodore vic 16 era davvero una macchina che poteva competere come prestazioni con lo ZX Sinclair con 4k di memoria ecco ora andremo a vedere l'altro tipo l'altro tipo di che sono i valori delle note messaggi di errore l'altro libro dedicato allo ZX Sinclair per capire se le due macchine che la commodore riteneva che fossero sostanzialmente una conversione esadecimale quindi figuriamoci che erano sostanzialmente a dire della commodore sullo stesso livello di prezzo e quindi questa macchina si sarebbe dovuta opporre allo Sinclair ZX con 4k con 4k con 4k una cosa incredibile ora andiamo a vedere ma era proprio così questi qui io di ogni no perché poi adesso andremo a vedere dall'altra parte il perché poi inizieremo lì cima di questo discorso alla scoperta dello ZX Spectrum eccolo qui un altro livello editoriale Jackson ZX Sinclair ZX Spectrum era nero anche lui era nero c'aveva un tasterino di merda in lattice ecco però ecco però però poi andremo a scoprire che questo bussolino che costava molto poco pur avendo un tasterino di merda c'aveva molta più memoria e un microprocessore più potente del quello che c'era sul Commodore 16 inoltre oltre che deve essere utilizzabile come macchina da gioco c'è che c'aveva un ballino di giochi perché per il Sinclair ZX Spectrum mi fecero un ballino di giochi proprio tantissimi quindi questa poteva essere una piattaforma di gioco molto buona a prezzo molto modico a differenza del Commodore 16 che con 5k non ci faceva nulla anzi pardon 4k questo ci aveva molto più di 4k inoltre era possibile metterci potenzialmente anche praticamente qui c'era un altro aggeggio di espansione a cui puoi agganciarci eventualmente una stampante oddio con una stampante ci si faceva nulla perché il tasterino era orrido però diciamo che questo era sicuramente un computer che c'aveva il look di una calcolatrice scientifica ma c'aveva molta più RAM e come spazio diciamo per videogiochi diciamo è indubbiamente migliore perché la risoluzione video e anche lo spazio di RAM indubbiamente sullo ZX Spectrum non c'era a dirci nulla questa è la premessa che qui già vi anticipo e che poi andremo a vedere a scoprire all'interno di questo test che adesso andremo a vedere scritto nel lontanissimo 1983 il link per scaricare questo test l'ho trovato in descrizione cosa c'era nel sommario capitolo 1 calcolatrice la tastiera numeri alti comandi programmazione elementare uso del registratore i colori i suoni sotto il coperchio introduzione ai capitoli successivi la programmazione in basic che indubbiamente era un basic molto simile a quello praticamente del Commodore 16 però questo era un pochino più potente inoltre c'aveva praticamente molta più RAM e quindi di conseguenza era una macchina indubbiamente molto più potente poi va bene continua la programmazione in basic le espressioni le funzioni 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 matematiche randomize le matrici connettori logici poi abbiamo print input la possibilità quindi vari effetti grafici sul testo poi abbiamo praticamente la gestione degli sprite plot draw circle point per gestire le figure per produrre suoni list e poi abbiamo variabile di sistema uso del linguaggio e poi una serie di appendici molto importanti che poi andremo a vedere l'iscrizione dello spectrum in particolare dell'appendice C comunque questo lo corremo rapidamente allora caratteristiche eccoci qua questo aveva praticamente 16k con il basic quindi ne più e ne meno come quello del Commodore 16 anzi a dire la verità il Commodore 16 che aveva 4k di rom 4k di ram in sostanza ce ne aveva 12 di rom quindi aveva già un basic che sicuramente era meno potente di quello che c'era sullo ZX Spectrum che c'era 16k contro i 12 del Commodore 16 inoltre lo ZX Spectrum poteva essere venduto in dotazione nel 16k 16k erano molto di più molto di più dei 4k e quindi già ci si faceva più cose il triplo anzi il 4x4 16 ho detto una minchiata inoltre era espandibile perché era possibile inoltre comprare lo ZX Spectrum anche 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 in dotazioni già differenze già con 32k oppure con 48k quindi di conseguenza erano macchine completamente diverse perché voglio dire una macchina con 48k non aveva nulla a che spartire con una macchina che c'era 4k vero che lo Spectrum aveva un tastierino di merda mentre il Comodo al 16 aveva una tastiera ergonomica ma non aveva una tastiera ergonomica con 4k ci si faceva nulla mentre qui anche se la tastiera era di merda con qualcosa con 48k praticamente i videogiochi andavano alla grande stragrande poi abbiamo risoluzione grafica 256x176 pixel con 8 colori poi c'è la possibilità del suono con 10 ottave che qui anche che le gestiva assolutamente il microprocessore non c'era un chip dedicato come l'altra parte del terzo ma comunque poco ma quindi praticamente c'aveva un microprocessore migliore più potente poi c'aveva molta più ram la versione più economica 16k espandibili per altri 32 per arrivare a 48 oppure potevate comprare una versione a 32 a 48k come risoluzione grafica era assimilabile a quella del commodore 16 c'aveva tantissimi giochi mentre per commodore 16 non ce n'era nemmeno mezzo e non poteva il commodore 16 nemmeno andare a pescare dentro tutto quel software che c'era già stato scritto per il commodore vik 20 il commodore 16 era incompatibile inoltre diciamo l'ottimo utilizzo dello ZX spectrum era con un registratore purché questo diciamo un qualsiasi registratore purché questo ci avesse avuto il contatore a differenza dei registratori della commodore che dovevano essere solo quelli della commodore inoltre ci potevate mettere eventualmente anche un'espansione aggiuntiva per gestire una stampante con il tastierino di merda che c'aveva ci facevate nulla però diciamo che come macchinetta per i videogiochi questa era una soluzione molto buona perché bastava comprare questo il joystick un registratore con un contatore e si era già a posto e si poteva già andare a giocare con tantissimi giochi con una macchina con 48k o anche 32k che non aveva nulla che spartire con il troiaio del commodore 16 che c'aveva 4k ok andiamo a scorrere praticamente questo questo manuale giusto per vedere come è scritto eccolo qua e qui già qui si spiega che è tutta un'altra cosa si spiega come attaccarlo e via dicendo qui ci sono figure e indubbiamente diciamo questo test si rivolge questo computer si rivolgeva praticamente a 14 anni che erano già un po' più smalizziati e un po' in ogni qualche cosa ne intendevano perché volevano magari giocare non dico programmare perché programmare con una calcolatrice scientifica con un tastierino orrido che fa venire le bolle solamente a vederlo era una ossa che non si poteva fare non si poteva vedere in un'epoca in cui non esistevano mouse e tutti gli utenti che interagivano con un computer dovevano interagire passando dall'interfaccia a linea di comando e passando all'interfaccia a linea di comando serviva come il pane come l'aria praticamente una tastiera che fosse ergonomica questa era tutto fuorché ergonomica perché faceva venire le bolle però diciamo che non importa per giocare poteva bastare per programmare ecco programmare no fare ricerche di scuola no ma per giocare si quindi questa era una macchina che a tutti gli effetti si poneva si poneva come un anti-comodore 64 perché anche il comodore 64 praticamente 64k non è che ci si potesse poi fare molto a livello di produttività personale perché era troppo poco e il software integrato anche se c'erano diciamo i word processor erano piuttosto scadenti però diciamo che ci avevano una tastiera diciamo ergonomica o qualche cosina ci si poteva fare questo ecco battere ricerche di scuola no ma come videogioco come macchina per diciamo playstation programmabile indubbiamente era decisamente migliore e più economico del comodore 64 lui il comodore 16 non arrivava nemmeno praticamente ad annusarlo questo che c'era sul ZX Spectrum che obiettivamente era molto molto superiore ok continuiamo a scorrere praticamente questo libretto che indubbiamente andava praticamente a a guardare i 14 anni che eventualmente dal proprio manuale non che abbiamo già fatto ci ho già fatto un podcast sul manuale dello ZX Spectrum c'era già tutto era a colori e anzi addirittura sulla versione dello ZX Spectrum Plus che c'aveva praticamente una tastiera che era già compatta ed ergonomica quindi era già tutta un'altra macchina rispetto a questa ma comunque praticamente eventualmente uno poteva comprare un librettino aggiuntivo come questo e andare a espandere praticamente i temi in modo più approfondito e indubbiamente lo ZX Spectrum era molto superiore al Commodore 16 non sapisce perché eccolo qui era tutto qui praticamente cosa c'aveva c'aveva qui la zona per mettere le espansioni in particolar modo per pilotare anche periferiche esterne ma comunque l'ossa importante era praticamente questo che si attaccava in sostanza al al registratore e una volta caricato ci si poteva mettere praticamente un joystick proprietario questa era la potenza elettrica qui c'era l'uscita collegata al al mod e voilà in tre momenti praticamente aspettando un po' in tempo chiaramente per il calc per il caricamento dal registratore si aveva praticamente tutto il tutto il programmino qui col microprocessore che era questo e praticamente si ruzzava e si era già a posto andiamo a vedere qui altri si spiega capitolo 11 elementi di programmazione basic io qui vado veloce perché tanto se siete interessati a scaricare e ricordare per avere diciamo il basic o un libriccino sullo ZX Spectrum il link lo trovate in descrizione per scaricare questo testo se invece volete ricordare il basic per il Commodore 16 lo trovate un anche bello uguale se siete interessati a tutti li potete scaricare ora in questa retrospettiva non ci porremo i programmi della programmazione che indubbiamente anche il basic per il SYNC era decisamente superiore rispetto al misero basic del Commodore 16 che con 4K ho detto non ci si faceva nulla al massimo ci si grattava le palle ecco così l'ho detta mentre indubbiamente con 16K già qualche cosina ci si faceva con 48 era decisamente meglio ci si sciacquava ora con un registratore se era praticamente a posto per i giochi e diciamo a fare delle flottaggi di funzioni qualche cosina si si poteva fare già con questo anche se c'aveva una tastiera che era orrenda ma comunque passiamo passiamo oltre indubbiamente con il Commodore 16 ci si faceva nulla questa era tutta un'altra macchina molto superiore il Sinclair ZX Spectrum era molto superiore al Commodore 16 quindi non si apisce perché alla Commodore per arginare diciamo le vendite del Sinclair ZX 80 che era molto molto superiore al Commodore 16 ci avessero mandato a schiantare il Commodore 16 che era un troiaio proprio un troiaio al massimo ecco si poteva si poteva comprare per tenere come superammobile come a chiappa perché praticamente non ci si faceva assolutamente nulla questa era tutta un'altra macchina ecco se si voleva andare a arginare se si voleva andare veramente a arginare diciamo il Commodore Sinclair ecco si poteva prendere la piattaforma del VIC-20 e metterci 16k di RAM o 20k o 32k o 32k e vendono a un prezzo competitivo levandoci dalla scheda madre del praticamente VIC-20 tutte quelle spinotterie che non si ritrovano qui sul Commodore sul Sinclair quindi togliere praticamente le uscite dischi le uscite stampanti e limitarsi a tenere come c'erano sull'ZX Sinclair solo presente l'uscita video le entrate per il registratore e la potenza non era necessario nemmeno metterci diciamo la scheda lo slot di espansione al massimo ecco ci si poteva mettere un paio di presi joystick ma tutte le prese di uscita ecco non servivano come una mazza sul Commodore 16 e quindi già o anche sul VIC-20 prendendo quello e incominciando a levarci gli spinotti di conseguenza ecco poiché il Commodore 16 non era capace non aveva diciamo non aveva RAM non aveva retrocompatibilità con il Commodore VIC-20 ecco anche se era nero e ci aveva una tastiera ergonomica non ci si faceva una mazza e di conseguenza diciamo la qualità video dei giochi praticamente del Commodore 16 erano veramente penosi nulla che spartire con la qualità diciamo e il divertimento che c'era praticamente sul ZX Sinclair che c'erano indubbiamente tantissimi giochi indubbiamente erano molto più divertenti poi con 48k o anche 32 o anche 16 era già tutta una macchina diversa rispetto ai 4k ecco di conseguenza ci si chiede a cosa serviva a cosa è servito andare a procurare il Commodore 16 se era una macchina meno potente e che non poteva arginare quello che faceva questa macchinina ecco secondo me l'hanno venduto il Commodore 16 così come hanno venduto la linea del plus 4 semplicemente perché avevano fatto il chip dead e a qualcuno dovevano rifilare e questa è secondo me la tesi che spiega meglio il perché diciamo alla Commodore provarono a mandare il Commodore 16 contro questo che indubbiamente il Commodore 16 non ci aveva ram l'ho detto e ridetto era incompatibile con il Vic 20 e quindi anche se ci aveva una tastiera ergonomica non ci si faceva una mazza era meglio prendere la piattaforma del Commodore Vic 20 metterci 16k o 32 o 48 prendere un pezzo competitivo ma dalla piattaforma del Vic 20 toglierci praticamente tutta la spinotteria del Commodore Vic 20 e lasciarci come è praticamente qui su questo qui eccolo praticamente la presa della potenza un'entrata uscita per il registratore un'uscita video e un'uscita praticamente joystick ecco quello sarà posto va bene per questa puntata è tutto un saluto ciao alla prossima ciao 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 ciao